Io con la bellezza non ho un gran bel rapporto, nel senso che la bellezza non mi incanta, certo che incanta la bellezza, ma non sono convinto che si possa parlare della bellezza, perché quando si parla di qualcosa la si oggettiva e soprattutto la si concettualizza, la si mette in un contesto di ragionamenti, mentre la bellezza è qualcosa di immediato che sfugge a qualsiasi ragionamento. Ricordo che appena mi sono laureato il primo libro che volevo scrivere avrebbe avuto come titolo Verità e bellezza, ed è un libro che non ho mai scritto, e non l'ho mai scritto per una semplice ragione, che non si può parlare della bellezza, e ogni volta che si parla della bellezza la si tradisce un po', perché la bellezza ci colpisce, ma non possiamo fare troppi ragionamenti intorno a questo scenario. San Tommaso se la sbriga più rapidamente, ma niente male la sua definizione, dice che pulcrum est quod visum placet, bello è quello che quando lo vedi ti piace, semplice, è così. Kant ancora una frasetta intelligente ci dice del bello, dice che il bello è senza concetto e senza scopo. E allora non dobbiamo dimenticare questa componente corporea della bellezza, è qualcosa che colpisce i sensi, e i sensi nella filosofia non hanno avuto un grande successo, perché i sensi ci ingannano, i sensi non sono una base per costruire una verità. se qui dovessimo dire che temperatura c'è, ciascuno di noi darebbe una temperatura diversa secondo delle condizioni del suo corpo. Non arriveremo mai a una definizione univoca, per arrivarci bisogna misurarla, bisogna procedere per numeri, come diceva Platoni, per numeri e idee, non per sensazioni. E la sensazione è stata messa un po' a lattere, anzi in un certo senso la filosofia nasce come soppressione della sensibilità, soppressione dei corpi, perché non sono affidabili, nel senso che i loro responsi, le loro informazioni, non sono assolutamente utili per costruire un discorso scientifico, cioè valido per tutti, costruito secondo necessità e non secondo opinioni individuali. però la definizione più bella ce la dà Thomas Mann quando dice che la bellezza, dice Thomas Mann, turkstechen, turkstechen, chi sa un po' di tedesco sa che turkstechen vuol dire trafiggere, la bellezza trafigge. E ancora si ribadisce che io non ho potere sul bello, il bello ha potere su di me, non solo nella forma dello stupore da cui l'essere stupiti e anche stupidi, stupidi non è una brutta parola, è la condizione di chi è stupito e quindi incantato, paralizzato dalla bellezza. Non dimentichiamo la sindrome di Stendhal. Stendhal è andato una volta a Firenze, ha visto le opere d'arte ed è stato malissimo, l'hanno portato in ospedale, da allora in poi hanno studiato che cosa era successo, non c'era niente da verificare, hanno stabilito la sindrome di Stendhal, che adesso è una studiosa fiorentina registrata in un anno, 300 casi di sindrome di Stendhal, che di fronte alla bellezza hai una sorta di paralisi, di situazione di panico, oppure di perdita del controllo, svenimento, tutte queste manifestazioni, perché la bellezza trafigge, dice bene opportunamente Thomas Mann, esattamente come la rappresentazione iconografica dell'amore, che viene rappresentato appunto come un putto che lancia una freccia e ti ferisce. Ricordo una scena di una ragazza che era venuta in treno, una volta io segnavo a Venezia, abitavo a Milano, e ho salita sul treno con un grosso strumento musicale, giusto per questo, e c'era un signore che parlava con lei, si interessava all'arte di quello strumento, e dopo che si è interessato e ha parlato per una mezz'oretta, alla fine questo signore ha chiesto a questa ragazza, ma sono incantato dalle cose che lei dice, vede il suo entusiasmo, ma mi dica, dov'è il business che sta a dire, quanto si guadagna con questa cosa? Oggi noi, con questa mentalità ben descritta da Heidegger, secondo cui abbiamo un pensiero che è capace solo di far di conto, Denken als Rechnen, dice Heidegger, non sappiamo più che cosa è bello, che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è santo, capiamo solo che cosa è utile. La parola bellezza è la prima parola che compare nella Bibbia, nel senso che quando Yahweh, il Dio, crea il mondo, alla fine di ogni giornata, dice la Bibbia, nel Genesi, e vide Elohim che ciò era buono, Elohim è il nome aramaico di Dio. La cultura giudaica cristiana è una cultura dell'udito, l'organo privilegiato nel mondo giudaico è l'udito, perché attraverso l'udito tu ascolti la parola di Dio, che è parola di verità. A differenza dei Greci è che l'organo privilegiato è la visione. Ecco, l'udito è là dove ascolti la parola, e quindi c'è una bellezza della parola, una bellezza della parola che viene ben evidenziata nella tradizione giudaica, ma gli ebrei a un certo punto vorrebbero qualcosa di più della parola, qualcosa di più che investisse non solo l'udito, ma anche la vista, e si costruiscono un'immagine da venerare, da adorare, da incantarsi, che è l'immagine del vitello d'oro. Il vitello d'oro, che non è tanto un feticio, non è tanto un idolo, è un'immagine, un bisogno di immagine, è qualcosa da vedere, oltre che da udire. Ed è proibita la tradizione giudaica, la cultura dell'immagine. Se voi andate in una sinagoga, non vedete neanche un'immagine, vedete solo nell'abside delle scritte, con dei versetti della Bibbia scritti in aramaico, ma anche se andate nell'altra religione monoteista, che è quella musulmana, non vedete nessuna immagine, perché di Dio non ti fa in nessuna immagine. Assoluta trascendenza. Questa dimensione del cristianesimo fa sì che il cristianesimo delle tre religioni monoteiste sia l'unico che mette in scena l'arte. Se noi occidentali abbiamo una storia dell'arte, la troviamo alla Chiesa. Perché se Dio è diventato uomo, se si è fatto corpo, è rappresentabile. E in quanto è rappresentabile, le nostre Chiese sono piele di immagini. Anzi, nel Seicento, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando la gente cominciava a disertare le Chiese per via dell'eresia protestante, che non voleva immagini, furbi, cattolici, cosa hanno fatto? Hanno riempito le Chiese di immagini che per l'epoca potevano essere anche abbastanza pornografiche, Madonna con i segni fuori, San Sebastiani nudi, ecco, in maniera tale da attirare la gente, perché l'immagine muove, muove, commuove. Ecco, noi di tutta questa dimensione abbiamo perso sostanzialmente tutto. Come dice opportunamente Padre Turoldo in una delle sue considerazioni, dice che le nostre Chiese attuali, Chiese moderne, fatte da architetti, eccetera, sono come dei garage dove è parcheggiato Dio e i fedeli allineati davanti a Lui. Abbiamo perso la bellezza delle nostre Chiese. Un'opera è d'arte quando il mio sguardo non la esaurisce, rimanda ad un'ulteriorità di significato. E l'incantamento consiste nel fatto che di fronte a quella statua io continuo a cercare quell'ulteriorità di significato rispetto a quello che il sensibile mi offre. La differenza tra gli oggetti e le opere d'arte è che gli oggetti si esauriscano nel mio sguardo, che ne cattura il significato. Nell'opera d'arte il mio sguardo non riesce a catturare la totalità del significato. C'è un rinvio verso l'ineffabile. L'ineffabile è un'altra parola greca, fatte vuol dire dire, verso l'indicibile, verso l'invisibile. Quando Leopardi dici dimmi che fai tua luna in cielo. Dal punto di vista razionale la banalità è insignificante, no? Innanzitutto non si fanno domande alla luna che non ti risponde, cosa gli stai a chiedere. Secondo, sappiamo benissimo che cosa fa la luna a dire intorno alla terra e che bisogna cercare di fare una domanda che cosa fa. Quindi proprio non ha nessun senso dal punto di vista razionale. Perché è poetica? Perché per Leopardi la luna è la luna, ma anche qualcos'altro. Ecco qui quando si smarge dal principio di non contraddizione. La luna è la luna, ma anche un'interlocutrice femminile a cui posso chiedere domande in ordine al senso della mia esistenza. Il poeta era colui che quando vede non si ferma al visibile, ma ha una vista superiore che i greci chiamano epopteia. Pipto vuol dire guardare in greco, epopteia vuol dire guardo al di là di ciò che si vede. Ecco, solo se avete uno sguardo epoptico, cioè in grado di guardare al di là di quello che vedete, incominciate a capire che cosa è un'opera d'arte. E' l'Odissea, è l'Iliade, dicono che Omero fosse cieco, perché se racconti cose così grandi non puoi esserti fermato a quello che vedi tutti i giorni. Qui comincia la dimensione dell'arte, della bellezza. Quando noi guardiamo un'opera d'arte ci comportiamo come quando guardiamo la perla di una conchiglia. la perla, no, come quando guardiamo una perla, ma ogni volta che guardiamo una perla e la ammiriamo e ci dimentichiamo che la perla è la malattia della conchiglia. E senza la malattia non sarebbe nata la perla, così come senza la schizofrenia di tanti poeti, di tanti scultori, di tanti artisti. Senza l'immersione nella follia non sarebbe nata mai un'opera d'arte. Quindi il gioco è pesante, il gioco della bellezza. La bellezza non è una cosa tranquilla, la bellezza è una cosa che inquieta, è una cosa che trafigge, è una cosa che ti paralizza, è una cosa che ti porta alla dimensione del sublime, ma non sei tu il padrone del gioco, ma è la bellezza che ti gioca. Grazie. Grazie.